Sergio Lacava non è più l'allenatore del Barletta 1922, Edoardo Gargiulo sollevato dall'incarico di vice allenatore. La decisione è presa dal club di Via Veneto per divergenze di natura tecnica, secondo quanto si apprende dal contenuto di un comunicato. A guidare i colori biancorossi sarà Francesco Bitetto, il nuovo mister del Barletta. Nell'ultima stagione ha guidato dal mese di gennaio a quello di aprile l'Unione Calcio Bicelli e militante nella Premier League pugliese. Nel suo trascorso anche la panchina del Martina Franca nell'anno della cavalcata verso la Lega Pro, ma anche indico all'allenatore del Bicelli e del San Paolo Bari per il piazzamento finale a ridosso della zona play-off. Sono felicissimo di avere la possibilità di guidare una squadra importante come il Barletta arriva in una piazza molto importante. Abbiamo un organico che può arrivare in alto, così il nuovo trainer biancorosso. Intanto la compagine pugliese si prepara a scendere in campo domenica contro la Vigortrani al Diomede di Bari, come da programma disputata la gara amichevole sul terreno del Miramare dinanzi al Manfredonia. Da registrare la sconfitta di Misura con rete di Malcore al quarantesimo. I biancorossi schierati in campo con il consueto 4-2-3-1 hanno saputo creare un paio di occasioni pericolose con Di Giorgio e lo Iodice.